Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gameray e qui è Frenchy Dreams Bentornati su Xenoverse 2 perché oggi ragazzi le paliate, le mazzate, quelle vere tra me e Francesca Con una bella novità, sarà Siri a scegliere quali sono i personaggi da scegliere all'interno del gioco I personaggi quindi saranno totalmente casuali Esatto, perché li sceglierà Siri All'interno di Xenoverse 2, anche tramite le mod, io ho circa 100 personaggi A Siri farò scegliere un numero da 1 a 100 e poi mano a mano scendendo in questo modo troveremo il numero corrispondente detto da Siri Domani ore 14 e 30 arriverà il finale della terza stagione di Dragon Ball Airp Poi la quarta stagione arriverà tranquilli, lo so già che ci tenete Direi quindi di iniziare con Siri Scegli un numero da 1 a 100 Hai fatto 37 stavolta 37, quindi per me il carissimo Friesa Hai fatto 4 4 Ok, io già so qual è il mio personaggio Il tuo personaggio è Goku praticamente Puoi scegliere qualunque forma Questo te lo do libero Puoi scegliere qualunque vuoi Va bene, vai Si trasforma anche in Super Saiyan di terzo livello Diciamolo già da adesso Quanti like per questo video? Voglio 5731 like Ragazzi, pollice in su adesso E come sempre, ogni sabato alle 14 e 30 arriveranno nuovi video con Francesca Mi raccomando domani per Dragon Ball Airp Sarà un grandissimo episodio Non potete perdervelo Ed inizia la battaglia Sono nascosto dietro la roccia Ah, è vero Non eri nella roccia come altri bug Ma eri, ecco Nascosto dietro Vediamo un po' Allora ragazzi, come al solito Voglio assolutamente da parte vostra Un tifo Tifate per me o per Francesca Se tifate per me Tifate per Goku No, tifano per me Tim Joseph Se tifate per me Tim Franci Se tifate per Francesca Fammi mettere sto controller sotto Che non so perché ce l'avevo in piedi Aia No Ragazzi, non potevo scappare Perché non avevo la stamina Mi poteva allontanare Francesca Hai perso la stamina Per venirmi incontro Non so perché È perché hai sprecato il bigore Per correre verso di me Questa cosa Questa che faccio adesso Consuma un minimo di stamina Ah, ok Cioè dopo oltre un anno e mezzo Di Xenoverse 2 giocato insieme Ragazzi, Francesca Ci fa comprendere che ancora oggi Nel 2018 a novembre Ancora nulla Non mi hai preso al volo Vado io con la Death Wave No, no, no Sono Super Saiyan No, no, no Oh, tra l'altro grande battaglia È proprio quando si trasformava in Super Saiyan Per la prima volta E dovevo andare su una Mecca allora No, ma sei venuto qua Oh, ma sto perdendo No Come no, sì Oh, pure sulla roccia L'hai distrutta Allora Concentrazione E vado ora Vai, vai È mio Bam Stamina break Francesca Allora devo ammettere che qua Te la sei giocata davvero benissimo Vado con la Death Ball Perché non lo vedo? Gokou Mamma mia, Francesca Stai perdendo malissimo Gokou No, Francesca Te lo dico Qua puoi difficilmente Portarti la vittoria a casa Perché te la sei giocata Proprio male Gokou Devo stare attento Devo stare attento Vai così Vai così No, Super Saiyan di terzo livello Parati Allora Vado col Death Slicer Death Slicer Ma che mi fai? Ma sto cretino hai visto che ha fatto? Eh, ma che ne so Ragazzi Allora Poi la gente mi dice Hai perso apposta Allora ragazzi Non potevo difendermi Scegli un numero da 1 a 100 43, 44, 45, 46, 47 Mamma mia Metal Cooler 70, 71 Francesco Geta Ti è andata proprio male Ma veramente ti è andata male Allora mi prendo quello con l'aureola Va Così Oh, tra l'altro Due personaggi direttamente dai film Di Dragon Ball Vediamo Allora Il film in cui compare Metal Cooler Che numero è? Francesco Che sono? Stai andando nel panico più totale Questi film sono un punto dolente No ragazzi Allora Francesca In sincerità Allora Adesso vi faccio una piccola confessione Francesca No invece lo devo dire Perché loro lo devono sapere Lo devono sapere tutti No lo dico No 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 Lo dico Allora ragazzi Francesca mi sta un po' deludendo Perché Non ha ancora visto I film di Dragon Ball Ogni tanto capita la sera Che sai Tra diverse cose Uno mangia una pizza Così anche con gli amici In compagnia Dico Che ne dici Ci vediamo un bel film di Dragon Ball Adesso Che da come avete visto Dalla Mystery Box Abbiamo a disposizione I Blu-ray Quindi le dico Oh vediamoci il film di Broly Il film di Gogeta E no dai Stasera no E ragazzi Rimanda ogni singola volta È inaccettabile Quindi Francesca Adesso vogliamo la promessa Da parte Come no La promessa da parte tua Davanti Almeno a 30 40 50 60 Mila persone Appunto Che vedrai questi film Ci stai? Non li voglio vedere Non li No Io quitto Io quitto Ok Voglio vedere quello di Broly Partiamo da quello Quindi il primo film di Broly Sì perché quando prendiamo al cinema Ho un minimo di conoscenza Devo averla Ebbè quando uscirà in Italia Il film di Broly Devi assolutamente averla Nel frattempo Ti sto paliando malamente Proprio le mazzate Quindi ragazzi Finalmente abbiamo convinto Francesca E vedrai i film Ma Francesca Non mi picchi Che stai a fare per curiosità E tu mi fermi Io che ti fermo No Volevo fare il sole Punisher Continua Non puoi Non puoi Continua zio Punisher Drive E ti colpisce E poi va alle spalle Ma guarda sta cosa Aia Stamina Break Mamma mia Cade pure giù No mi prendi Mi prendi Mi prendi Allora Francesca Devo ammettere Quei hai fatto un'ottima mossa Mamma mia Ragazzi Ho fatto un'ottima mossa Stamina ritorna Stamina No no Francesca Non è che le puoi vincere tutte Girati Girati Non ti puoi proteggere Francesca È finita per te Stamina Break No Esiste una cosa chiamata parata Mamma mia Via Volevi Sì Volevi Stamina Break Ma Francesca Ti ho scompito Con lo Stamina Break Proprio l'ultima botta In faccia E Metal Cooler È caduto Perché Giovanni È sempre Giovanni Ma lui è Gogeta No ragazzi Guarda che delusione oggi Ma lui È Giovanni È vero È fecito Giovanni Come l'avevamo chiamato Gogeta Ogni volta Filippo Ma che Filippo Mi pare era Giorgio lui Vabbè Ragazzi Scrivetecelo nei commenti Però Francesca Mi deludi Perdonatemi Prossima battaglia Vediamo un po' Che stai facendo No Mi sto confondendo Con il casuale No guarda Questa ce la lascio Utilizziamo Siri Scegli un numero Da 1 a 10 100 Hai fatto 7 Perché da 1 a 10 Convintissimo Scegli un numero Da 1 a 100 Hai fatto 16 Ok Sarà un Vegeta Secondo me Ok Tocca a me Hai fatto 72 Ma lui No vabbè ragazzi Non è possibile Perché io ero 71 Con Gogeta Super Saiyan 72 Gogeta Super Saiyan 4 E c'ero sopra Ragazzi Quante probabilità C'erano di fare una cosa Del genere Allora Se era 14 E Goten Se era 16 E Krilin L'abbiamo già scelto Precedentemente Poi in sincerità Krilin preferirei Preferirei evitare Meglio Goten Che mi scelgo magari In questa versione Un attimino più combattiva Ma ti distruggo Ragazzi Francesca Gogeta Cioè guarda Francesca imbroglia Hashtag Senti Io non c'entro niente proprio Vai 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 Tutto nelle mani di Siri Al World Tournament Stai giù Di notte Night Che ne so Coca Cola Light No A parte dobbiamo chiamare la pizzeria Dobbiamo fare portare la Coca Light Dobbiamo far portare patatine Pizze Coca Cola Vabbè E' sabato ragazzi Capiteci Però vabbè Noi registriamo il venerdì Vabbè Lasciamo a stare Ragazzi Vabbè Tutti sti trip mentali Allora Ragazzi Quante possibilità A Goten Contro Gogeta Super Saiyan 4 Noi apriamo le scommesse In modo fittizio Ovviamente stiamo scherzando Però Effettivamente Vediamo Perché la scatti Ma chi Il mio personaggio Adesso va bene Quindi Francesca guarda Ti assicuro Non sai come trovare scuse Ti assicuro che andava a scatti Ti stai già parando Le chiappe Per Per tutta Mangia questa Mi volevo teletrasportare Non c'avevo la stamina Quanto durerà questo scontro Ragazzi Ah no ok No Francia Mi dispiace Guarda Io mi ricordo In Dragon Ball Z Budokete In Kaichi Che era Il 3 Mi ricordo Comunque in ogni caso Eh vabbè Comunque Se uscivi dal ring Avevi perso Qua hanno tolta sta cosa Perché avevano capito Che Effettivamente Era una bella rottura Pure stamina break Ragazzi Ma Francesca Qua è devastante Stasera Cioè Vabbè stamattina Stanotte In base a quando vedrete il video Ma Ragazzi Francesca Non mi da scampo Io ci provo Provo a resistere Tanto anch'io posso fare così No Mamma mia Raga Qua me la so giocata male Allora Devo stare attento Vai 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 Va bene così Che colpo Ottimo Mi giro Mamma mia Ragazzi Parte la rimonta Di Peppo Pazziatore Un secondo Fammi pensare Rimonta Di Peppe Il Pazziatore Colui che pazzea No aspetta Francia ti rendi conto Che non stai avendo scampo Non mi da fare niente Girati Mamma mia No No vabbè Francia te la sei rubata Proprio questa Vabbè dai È reale Ho vinto Hai vinto Hai vinto Due a uno Ragazzi due a uno Francesca Quindi mi devo sposare No quello era il precedente video Andatelo a vedere No quello era il video precedente Non scherziamo Almeno un'altra battaglia La voglio vincere In tutta sincerità Poi lo scontrobonus Ormai ci sta Non devo andare col casuale Siri Intervieni Vediamo Scegli un numero Da uno a cento Ok quindici A me quindici È piccolo Perché prima ho scelto quattordici Hai fatto ottantanove Questa volta Ho fatto ottantanove Tantanove Vallo a contare Fino ottantanove Ragazzi ci proviamo Oh ragazzi Lì frossa Vabbè mi è andata bene Dai Ok Ma aspetta Ma stiamo rifacendo La battaglia Del Vabbè ma tu che ne sai Ma che ti vada a dire A te Ragazzi comunque Stiamo andando Al nameless planet Quindi il pianeta Senza nome Perché i due Se non sbaglio Quasi sono scontrati Però Sapete quelle parti dell'anime Le devo rin... Ma che film Francia è l'anime Di Dragon Ball Super No Allora Dragon Ball Super Ho visto solo Il torneo del potere E devi recuperare Vabbè non è che Vabbè ragazzi Lasciamo stare Se no la gente Poi si prende a male Però Dragon Ball Super Ragazzi Bello Ma ci sono tante cose Che potevano fare Molto molto meglio In tutta sincerità Ma questo Ragazzi lo dicono Tante persone Che nel complesso Come dire Con Dragon Ball Un po' ci sono cresciuti E non lo dicono Perché vogliono Rinnegare il nuovo Dragon Ball Perché io comunque Ragazzi Super Mi piace Ci può stare Però tante cose Potevano essere fatte meglio Così come anche Tante cose di Dragon Ball Z Potevano essere fatte meglio Ma senza alcun dubbio Francesca mia Guarda ti posso dire la verità Era meglio se facevamo Cinque battaglie Che cosa fa Non lo so Wall of Defense Bellissimo Ma lo sai che io Stamossa non me la ricordavo Hai capito che scena era Vabbè a parte Mi stai scassando qua E la scena Come no Ciao Era il muro Il gatto ghiattone Sì è Ciampa Il muro È il muro di difesa Guarda Wall of Defense Che ti ricorda questa posa Non lo so Mamma mia Francesca Ma sul serio È la posa Che fa piccolo Per proteggere chi Anche più di una volta La prima volta però ragazzi È proprio iconica Sì è lui Dai vabbè lo volevo fare È perché piccolo sia Lo volevo fare indovinare a loro Però vabbè 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 è l'unica volta che so qualcosa Fammela dire Vabbè mi sembra giusto Mi sembra giustissimo Quindi sì Protegge Gohan Contro Ma che pretese posso mai avere Androidi Ma no Che c'è Ma però Francesca Ma hai vinto qua Vabbè ragazzi Oggi episodio dominato da Francesca Contro Contro Nappa Difende Gohan Da Nappa Ah Nappa Ma che ne sai Ma che Ragazzi Vabbè oggi Francesca ha vinto Se la sta tirando Ci sta Ci sta Però prossima settimana Ore 14.30 Sempre di sabato Scasserò Francesca Almeno ci provo Poi vediamo che succede Però domani ore 14.30 Dragon Ball A Mi raccomando ragazzuoli Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi al canale di Francesca Guardate altri video presenti sul canale Quindi alla prossima Ciao